Numero di container in leggera flessione rispetto all'anno scorso, a fine anno gli addetti ai lavori stimano meno 2-2,5%, ma le merci trasportate da e per il porto di Trieste rimarranno sostanzialmente le stesse. Ma come è possibile? La risposta è tutta collegata alla crisi dei trasporti del canale di Suez, dove continua a incombere la presenza dei ribelli auti sul passaggio del traffico cargo. La situazione è infatti inciso in particolare sul ruolo di trasbordo dello Scalo Giuliano, cioè sulla movimentazione dei contenitori vuoti da e per altre destinazioni. Ecco spiegate le statistiche. Un tipo d'operazione è calata a favore di situazioni come Gioia Tauro, dove oggi si effettua il maggior numero di operazioni a vuoto. Questo per l'utilizzo attraverso il Mar Rosso di navi più piccole o battenti bandiere meno a rischio attentati. Va precisato, peraltro, che mentre la compagnia oceanica CMA-CGM fa passare le navi ancora per Suez, altre, come MERSC e MSC, circunnavigano l'Africa per evitare rischi. A letto di questo, però, il porto di Trieste ha tenuto e dopo gli orribili mesi di gennaio e febbraio, con flessioni del 4,5 sui contenitori, ha via via dimezzato il trend. Probabile una chiusura d'anno sotto i 16-20 mila Tiu, ma a tonnellate di merci la stabilità è già conclamata. Nei primi otto mesi il dato era di un più 1,5%. Insomma, lo scalo tiene e grazie al petrolio in particolare, ma anche al general cargo, più 3,5% nelle ultime statistiche diffuse, mostra segnali incoraggianti. Esattamente come nel traffico Rorò, stabilità anche qui, anche se con il nodo della crisi dell'automotive, ricordando che in Turchia si produce larga parte della componentistica per le big tedesche delle quattro ruote. Il maggiore interrogativo però è incentrato sul 2025, l'anno che verrà. Ci sarà una svolta su Suez e il nuovo riposizionamento strategico sulle rotte indo-mediterrane, evoluto fortemente anche dal governo Meloni dopo lo stop alla Via della Seta, saprà aiutare il rilancio dei traffici?